Credere nello Spirito Santo è professare la nostra fede nella terza persona della Santissima Trinità che procede dal Padre e dal Figlio. Lo Spirito Santo è mandato nei nostri cuori perché ricevendo la nuova vita di figli di Dio. Così ci insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica. Egli ci aiuta ad essere forti nella fede e ci sostiene nei momenti di fatica. Nonostante nessuno lo abbia mai visto, noi ne percepiamo la presenza. Sia questa giornata l'occasione per trovare un breve momento di preghiera ed invocazione allo Spirito. Con la sua forza nulla ti sembrerà impossibile. Coraggio e buona giornata!